Ciao a tutti, oggi la recensione che andremmo a fare è quella lì di un'antologia di poeti nuovi, innovativi, straordinari, del tredicesimo volume che ha pubblicato, il tredicesimo quaderno italiano che ha pubblicato Marcos i Marcos, ci sono tredici poeti, nuovi novelli, una casa editrice come Marcos i Marcos che in breve tempo si è affermata nell'editoria nazionale dedicando questo saggio, questa antologia che esce con una certa continuità, sia al tredicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea per Marcos i Marcos. Quello che ci preme noi ovviamente è, recensiamo di tutto il mondo, gli autori di tutto il mondo, di case editrice di tutto il mondo, però che ci preme molto è avere scoperto che vi è un siciliano di Biancavilla, Biancavilla cittadina alle pendici dell'Etna, in provincia di Catania ma molto distante dalla città, che è Antonio Lanza. Biancavilla è nota per uno forse dei maggiori scrittori, poeti, intellettuali che italiani, ma anche per uno dei più famosi fumettisti che ci ha lasciato qualche anno fa, Copo. Cosa, certo recensite tredici autori, cioè è impossibile per gli standard che sono del blog Letto Riletto Recensito. E quindi ci vorremmo attenzionare un attimo il corregionale Antonio Lanza. Antonio Lanza, erede forse, forse erede unico di Pagliarani, perché riprende quella continuità partendo dalla domenica fino ad arrivare al sabato prossimo e traducendo tutto ciò che è il vivere quotidiano e contemporaneo di ogni cittadino. Gioca, virgolettato, sulla questione dei centri commerciali. Ce n'è uno, abbastanza noto, che si chiama Etnapolis e da lì affronta quasi nichilisticamente, ma meglio dire in maniera molto cinica, quello che è il padrone assoluto dell'essere umano. Così come un cagnolino ha il proprio padroncino, diversi la moltitudine di esseri umani hanno come padrone in contrastato che li sottomette non solo lo sperpero del consumismo economico che si può andare a fare in un centro commerciale, ma anche tutte le dinamiche che girano attorno. Una poesia col taglio filosofico è di tipo ontologico, è quella lì di Antonio Lanza. Certo è che a me interessa leggerne almeno una che mi ha parecchio impressionato, se non tutta, perché sono delle poesie divisi per giorni della settimana, partendo dalla domenica, come dicevo prima, quindi sono abbastanza lunghe e sinceramente di legge una poesia lunga io mi annoio. Però il volume è ben fatto, è ben curato e Antonio Lanza ha meritato, giovanissimo tra le altre cose, 25, 26, non lo so Pantian, non ricordo, andare a leggere un estrapolato di una delle sue prose. Al bar di Prestipino il consueto affollamento mattutino di commesse, Laura di Love Ball ne ha un'altra da raccontare, stavolta uno specchietto rotto dell'auto che pensolava staccato ieri ai parcheggi, Alfredo il barista la blocca, piano le dice, stanotte sporgendo la tazzina, stanotte ho sognato che facevamo l'amore e com'era bello, di colpo le civetta, abbastanza sorpreso dell'audacia, lui dice, che è in funzione un sistema di telecamere che garantisce la vostra sicurezza. Ecco quest'ultimo è scritto propositamente in eretto per far notare come si è controllati da tutto ciò che può essere anche la spontaneità e lì si impone forte il cinismo, il padrone del cane, frequentatore o lavoratore del centro commerciale. Voto certamente nove e mezzo. Bravo ad Antonio Lanza, bravi a tutti gli autori, agli altri autori del tredicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea edito da Marcos Simarcos che ovviamente mi interessa andare a citare chi sono ad elencare. Non dimenticando che questo tredicesimo quaderno di poesia italiana contemporanea, quaderno italiano di poesia contemporanea, è curato e viene un'importante premessa di Franco Buffoni. Gli autori e questi nuovi poeti, e questo qui rende onore e merito alla casa editrice Marcos Simarcos perché non c'è segnalazione, non ci sono blocchi, altri vincoli, altre cose, non proprio così come nel loro stile, accolgono attraverso l'inviare i manoscritti e realmente ne escono fuori dei nuovi talenti. Complimenti anche a Marcos Simarcos. Gli autori Agostino Cornali, Claudia Crocco, Antonio Lanza, Franca Mancinelli, Daniele Orso, Stefano Pini, Jacopo Ramonda. Signori, un libro da avere certamente, un libro di circa 300 pagine, un libro che è di poesie, ma anche di poesie con quel taglio, diciamo, prima ontologico, filosofico, drammatico, ma anche gradevole, che sfora quasi ad arrivare al piccolissimo racconto frammentato che diventa poesia. Una strategia è un'ottima scommessa di Marcos Simarcos che sta facendo, che sta dando un buon risultato. Ciao, alla prossima recensione da Salvatore Massimo Faccio di blog Letto Riletto Recensito. Seguitelo, mettete like su la pagina Facebook, sul gruppo Facebook, quello che è Letto Riletto Recensito, su Twitter, su YouTube e su Instagram.